Buongiorno a tutti, seguite attentamente le istruzioni di questo video e scoprirete come guadagnare 23.000 euro Abbiamo scritto gigante sul titolo No Bufala proprio per farvi capire che si guadagnano soldi veri e non mozzarella Anche perché se fino ad oggi vi foste chiesti come faccio a guadagnare 3.000 euro in un giorno Le papabili risposte sarebbero state queste VENDERE ROBA USATA Cosa fai? Ho venduto una poltrona a 200 euro E come guardi la tv? Mi sei fottato, la guardo anche da in piedi, micchia, 200 euro Cosa stai facendo? Ho venduto la tv a 300 euro Scusa, non la guardi più? Ma micchia, la guardavo da in piedi Luca, esci di casa, l'ho appena venduta, 2.500 euro Hai venduto la casa a 2.500 euro Col divano e la televisione, 3.000 Sì, ma non è un po' pochino Minchia, togli una televisione e si svaluta SCOMMESSE La 2 a quanta data? E' doppio Allora a 1.500 sulla 2 è vincente Aggiudicato Vai Vai Fare le lemosi POKER ONLINE No, ma ancora lì, sai, è tutto il weekend che stai davanti al poker online Ma che da quando hai iniziato a giocare il mio conto è arrivato a 2.000 euro Minchia, da quanto sei partito? 100.000 Finchia, da 100.000 adesso sei a 2.000 1.800 AVERE FORTUNA SPARAZZINA Ma dai, un assegno di 3.000 euro è intestato a me Che fortuna sbarazzina Testare farmaci Oh, io vado a testare un farmaco e torno, ok? Fai attenzione a ste cose Questi tempi oscuri sono passati perché oggi se tu hai uno smartphone e un cervello puoi guadagnare questi soldi Ad esempio Luca non può partecipare perché ha solo uno smartphone Ma voi sono sicuro che potete partecipare, volete sapere come? Andate sul sito mai visto, trovate il link in descrizione In poche parole dovete scegliere un prodotto fra quelli disponibili Girarci un video inventato da voi, quindi lo girate con quello che volete Una telecamera, uno smartphone, un tablet, un pittore velocissimo che dipinge 25 frame al secondo E poi lo caricate sul sito E tra i 10 video più votati sarà proprio l'azienda a decretare quello è il migliore Comunque voi potete anche caricare un video per ogni prodotto Così da aumentare esponenzialmente le vostre possibilità Comunque tutto ciò che abbiamo detto è spiegato molto meglio sul sito Quindi andate a vedere E non iniziate a dire Ma va là, figurati, fregatura Smettela, smettetela di pensare male a tutto ciò che vedete È tutto vero, possibile, è certificato e se non lo vuoi fare sono mega cazzito E poi non lamentarti di essere il tuo amico in crociera perché ha fatto il video mentre E tu sei a spotorno al bed and breakfast Non fosse capitata a me la possibilità quando ero ragazzo di guadagnare 3000 euro onestamente Facevo a meno della pensione di mia nonna e la dichiaravo morta molto prima In che senso? E in quel grosso frigo in cantina ci avrei messo ogni tanto anche dei gelati Il frigo quello... Al funerale avremmo seppellito il corpo intero, non solo la dentiera Vabbè, fatelo anche solo per il bene di vostra nonna morta Ah, aspetta, aspetta, torna qua, aspetta Dimenticavamo Cioè, un'ultima cosa, in qualsiasi momento tu stia guardando questo video su mai visto C'è comunque una sfida in corso Quindi non hai neanche la scusa di aver visto questo video in ritardo Anche perché l'unico ritardo grave è quello della tua ragazza Giusto? Giusto, a meno che ovviamente tu non voglia un figlio Però lì è altro che 3000 euro Eh, lì se sai trattare lo vendi anche a 5